Un atteggiamento ai limiti del ridicolo, adesso c'hai veramente rotto le palle caro Fabio Fognini, c'hai veramente rotto le palle perché non si può più, non si può più andare a chiedere poi anche la wildcard agli organizzatori e fare queste figure e uscire sempre al primo turno perché ragazzi ormai è chiaro che Fognini non giochi più per vincere le partite ma gioca soltanto per uscire al primo turno, prendersi i suoi soldini dallo sponsor e di premi del primo turno perché ragazzi è chiaro perché se ti fai prendere a pallate da Veseli su Terra Rossa allora veramente siamo arrivati a toccare il fondo ragazzi e poi se spacchi tre racchette al millesimo di secondo ragazzi allora proprio non ci siamo, non ci siamo, è proprio sbagliato l'atteggiamento per Fabio Fognini, è proprio sbagliato l'atteggiamento ma palle facili cioè che poi non gioca neanche male nel primo set però arriva nei momenti decisivi delle partite e si pianta, comincia a sparacchiare quella a caso ragazzi perché veramente mi fa irritare Fabio mi fa irritare Fabio Fognini, io mi impunterò per non guardarle più le partite di Fognini, non le guarderò più le partite di Fognini perché tutte le volte mi fa irritare e quindi basta, basta Fabio veramente basta, 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 basta guardare Fabio, basta guardare Fabio Fognini non lo guarderò più perché tutte le volte mi dà quel nervoso ragazzi, almeno prima, cioè sì ogni tanto me lo dava il nervoso però che cacchio vinceva, molto spesso vinceva un avversario poco quotato e invece sta continuando a perdere, a perdere e a riperdere da inizio anno, ci siamo tutti rotti le palle cario Fabio, ci siamo tutti rotte le palle e poi vince Lorenzo Sonico, una partita purtroppo non visibile perché Marrakesh che si conferma il peggiore ATP forse in circolazione soltanto, che neanche nei challenger ragazzi, che trasmettono soltanto il campo centrale e io non capisco come un torneo a livello ATP possa trasmettere soltanto un campo in chiaro, veramente non ho parole, comunque Sonico vince 6-3 contro Gere, grandissima partita giocata evidentemente da Sonico, un avversario che aveva fatto semifinale a San Paolo, aveva fatto, aveva vinto a Rio de Janeiro il 500 quindi insomma un avversario che sulla terra rossa si sa ben destreggiare e vince anche Lorenzo Musetti anche sorprendentemente forse per il punteggio 6-2-6-0 contro Matteo Arnaldi alla 6-2001, grande partita da parte di Musetti che vuole al terzo turno a Barletta, convince ancora una volta la prova di Musetti che comunque dimostra già di giocarsela bene a questi livelli, chiaro che ha avuto fortuna in diversi sorteggi però insomma un Musetti che già dà segnali molto 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 incoraggianti già a questo livello e poi ragazzi va bene i sorteggi fortunati però bisogna essere bravi a fruttarli e questo Musetti è riuscito a farlo quindi bravo Musetti ancora bene e De Nosa Progressi comunque sul rovescio, dritto molto molto bene, servizio migliora e poi tantissime tantissime, gioco molto vario e tantissime armi nel suo repertorio quindi bravo 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 Lorenzo potete sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate una valanga, un mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, forza, i Lorenzi e Fognini, svegliati, svegliati perché ci siamo tutti rotti i coglioni e arrivederci raga, iscrivetevi al canale e arrivederci raga, c'era il prossimo video